Rogasca, Grand Hotel Sava, in Slovenia, a due passi da casa tua, dove puoi coniugare tradizione, divertimento e benessere. Rogasca ti offre quello che hai sempre desiderato, serenità e salute, grazie alla sua pregiata acqua con il più alto contenuto di magnesio al mondo. Unisci a questo un beauty center d'avanguardia, eccellenti cure termali, una accattivante piscina, sauna, bagno turco, escursioni, a volte da una natura lussureggiante in un paesaggio d'altri tempi, ed ecco la tua vacanza, quella che hai sempre sognato. Il Grand Hotel Sava di Rogasca si fa garante del tuo benessere, anche nella cura del cibo. Per chiudere in bellezza la tua giornata ti aspettano il casino e la musica del video. Telefona allo 003863 811 4000 e dite il codice PF Italia, otterrete così anche uno sconto particolare. Rogasca, Grand Hotel Sava, dove la salute è di casa.